Career Counseling per DSA Per molte persone con DSA, il momento della ricerca di uno stage o di un lavoro può essere stressante, specialmente se a scuola hanno vissuto esperienze negative. È difficile immaginare quali capacità e competenze serviranno nel mondo del lavoro e come organizzarsi. Proponiamo un percorso di orientamento alle scelte di formazione e di carriera che serve per acquisire maggiore consapevolezza delle tue risorse e interessi e arrivare a delineare meglio i tuoi prossimi obiettivi con autoriflessione, consapevolezza, autoformazione multisensoriale, formazione esperienziale, uso del proprio stile di apprendimento. Il percorso ti permetterà di fare un'analisi dei tuoi bisogni, conoscere meglio le tue risorse e i tuoi interessi, definire i tuoi prossimi obiettivi, creare un buon CV e saperlo raccontare, affrontare un colloquio in maniera efficace. La prima fase di orientamento serve per illustrarti i servizi e le attività. Potrai delineare insieme all'orientatrice il percorso più adatto alle tue esigenze. In un primo momento, attraverso esercizi e colloqui, potrai prendere maggiore consapevolezza delle tue risorse. Questo ti permetterà di orientarti e raccontarti in maniera efficace. Il percorso ti darà strumenti per conoscere meglio il mercato del lavoro, le offerte e i possibili profili professionali, dileleando così i tuoi obiettivi. Conoscersi per scegliere La seconda fase serve per vedere i tuoi interessi e le tue esperienze più varie dal punto di vista delle competenze acquisite e delle capacità espresse. Attraverso esercizi e colloqui potrai vedere le tue attività quotidiane con nuovi occhi. Raccontarsi e affrontare la selezione Il CV non è soltanto un documento indispensabile per la ricerca attiva del lavoro, ma anche uno strumento di autoriflessione e un modo per raccontarsi. Potremmo usare mappe, schemi e immagini che ti aiuteranno a visualizzarti e imparare a raccontarti. Raccontarsi al colloquio Ti verranno fornite informazioni generali su come funziona un colloquio di lavoro, le principali domande, le strategie, linguaggio verbale e non verbale. Potremmo fare delle simulazioni e sperimentare l'uso di mappe, schemi, immagini e presentazioni in PowerPoint per organizzare le risposte e i discorsi.